Adesso cambiamo decisamente argomento con il caso Sakine. La donna potrebbe essere giustiziata domani in Iran. L'allarme è lanciato da una organizzazione non governativa. Sandro Petrone. Per giorni segnali di crescente intransigenza dal regime di Teheran. Poi oggi il timore di una fine imminente per Sakine si materializza in appelli e vele, come questa di stasera davanti alla rappresentanza del Parlamento europeo a Roma. Dopo l'allarme lanciato dal Comitato internazionale contro le esecuzioni, Sakine potrebbe essere giustiziata entro poche ore, già domattina, mercoledì, giorno di condanne capitali, come racconta il TG2 la presidentessa dell'organizzazione non governativa, l'iraniana Mina Ahdi. Tre giorni fa ho ricevuto l'informazione dall'Iran che Sakine sarà giustiziata. Non sappiamo con esattezza se è veramente domani, ma sappiamo che può avvenire da un momento all'altro. Ci sono state molte manifestazioni, perciò il regime islamico ha deciso di non lapidarla, ma di impiccarla. Io chiedo che ogni paese faccia una telefonata direttamente al regime islamico o alle sue ambasciate, perché la pressione internazionale può essere di grande aiuto. Sul fatto che l'esecuzione sia tanto imminente, esprime prudenza il ministro degli esteri frattini, che dopo aver consultato l'ambasciatore italiano a Teheran, dice che non c'è nessunissima conferma del fatto che la condanna sarà domani. Il tempo di una speranza in cui l'Italia lancia un appello congiunto di frattini e del ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, con la fiducia di poter trovare ascolto da parte dell'Iran. E l'Unione Europea chiede a Teheran di bloccare l'esecuzione.